La scuola riparte guardando al futuro. Tornano infatti in presenza gli Open Day svolti in questo fine settimana, con la grande soddisfazione di dirigenti e docenti degli istituti Marzolla, Leo, Simone e Durano, che hanno accolto l'entusiasmo dei futuri studenti, accolti dai giovani alunni che hanno presentato l'offerta formativa dei vari indirizzi di studio per gli istituti superiori. Una presenza e un coinvolgimento di ragazzi e famiglie che sicuramente mandano un bel messaggio per la ripartenza del mondo della scuola dopo la pandemia. Un grande entusiasmo che abbiamo percepito dalle numerosissime famiglie che ci hanno visitato. Abbiamo avuto oltre 300 prenotazioni, se contiamo tutte quelle prevenute sui treplessi per i nostri quattro indirizzi. Ci abbiamo tenuto a ripartire, subito ripartire in presenza, quasi una corsa contro il tempo, nel timore che possa accadere qualcosa, perché sappiamo che la minaccia del Covid comunque c'è sempre. Le prenotazioni sono state suddivise in piccoli gruppi al punto da rendersi necessario addirittura occupare tutta la giornata di domenica fino alle 21 della sera. Quello che più veramente ci ha colpito è l'entusiasmo con cui si sono accostati a noi i ragazzi delle scuole medie, i loro genitori e soprattutto il grandissimo coinvolgimento che hanno saputo manifestare i nostri studenti, attivissimi nella giornata di ieri insieme agli insegnanti. Sono stati veramente in grado di trasferire il senso di appartenenza verso questa grande realtà a tutti i nostri visitatori. Hanno parlato a braccio, hanno parlato con entusiasmo, sono stati zelanti, sempre presenti e i genitori ci sono complimentati proprio per questo.